Ciao e grazie di aver scelto la nostra demo gratuita 7 giorni della piattaforma e-learning per quello ancora un grazie e questo corso e questo corso ti permetterà di conoscere facilmente le funzionalità della piattaforma e-learning, come utilizzarla dal punto di vista di segreteria come creare gli utenti, ti abbiamo creato un account utente in modo tale che puoi vedere come l'utente potrà vedere il corso e quali sono tutte le aree di report utilizzando i codici admin che ti abbiamo inviato per analizzare e creare veramente questo corso. Ti preciso che tu avrai una settimana a disposizione del nostro staff per costruire velocemente un corso su una tua piattaforma puoi chiedere la piattaforma personalizzata demo per poter cominciare a utilizzare la piattaforma e se acquisterai gireremo solo la chiave e i corsi saranno già online. Una piccola panoramica in alto hai questa dashboard con una sezione che tu hai la possibilità di visionare quelle che sono le aree delle video lezioni che abbiamo messo a disposizione con tutti i video che ti permettono di capire come utilizzare le varie funzioni. Troverai dei contenuti extra per poter vedere dei video YouTube interessanti legati all'utente. Ti invito ovviamente a rispondere al test in modo tale da ottenere anche un attestato di frequenza per l'utilizzo della piattaforma e-learning virtual meeting e un grazie poi nell'analisi della customer per questo semplice percorso formativo con rilascio anche della partecipazione. Se tu condividerai nell'area profilo anche la condivisione del tuo profilo potrai parlare e comunicare con tutti gli altri partecipanti a questo corso formativo. Avrai la possibilità di scrivere nel forum quelle che sono le tue domande, in chat potrai scrivere qualunque domanda in modo tale da a diciamo seguirti nell'arco di questa settimana nell'utilizzo della piattaforma. Ma virtual meeting ha voluto darti anche di più. Nel tuo profilo troverai in questo corso anche altri due corsi. Troverai il corso di marketing strategico online dove potrai visionare oltre 40 ore di formazione per poter utilizzare, vendere e posizionarti come ente formativo con i tuoi servizi barra corsi formativi e un'analisi e alcuni video per utilizzare la formazione videoconference live con il corso virtual meeting collaboration. Non posso nient'altro che dirti che i bonus non sono finiti. Per chi utilizzerà ovviamente la demo otterrà al termine dei sette giorni un'offerta speciale particolare che ti arriverà sulla tua casella di posta elettronica. I canali di assistenza che dovete utilizzare in questo periodo sono esattamente su skype l'account virtual meeting support ok e come email di supporto support chiocciola for meeting punto it. Adesso non posso che augurarvi buona navigazione. Qualunque domanda la scrivete su skype o su email io e i miei collaboratori vi risponderemo per far sì che la vostra esperienza formativa sia veramente al top. Grazie ancora e buon virtual meeting a tutti voi.